Carissimi amici viaggiatori, ciao! Io sono Elena e è passato un po' di tempo dal nostro ultimo saluto. Quest'oggi sono qui per dirvi che nonostante tutte le difficoltà di questi ultimi mesi, Diomira non si è mai fermata. Siamo riusciti a realizzare degli itinerari in quest'ultimo periodo, da nord al centro al sud, con piccoli gruppi, sempre rispettando le norme anti-covid, itinerari nuovi, sorprendenti. Non avevamo forse neanche noi la percezione di quante bellezze e di quanti nuovi itinerari particolari si possono realizzare all'intorno del nostro splendido paese. Abbiamo racchiuso tutti questi itinerari che abbiamo realizzato all'interno di questo volantino, che abbiamo chiamato La Bella Italia, pieno di colori come la nostra Italia, davvero. All'interno troverete infatti varie sezioni suddivise, quindi tra pellegrinaggi, percorsi nei santuari mariani, viaggi culturali, viaggi tematici. C'è una sezione dedicata alle norme anti-covid, perché ci teniamo tantissimo a rispettarle in ogni servizio che vi offriamo. Abbiamo ovviamente dedicato anche una parte alla nostra amata Terra Santa. Ci manca tanto, siamo certi che ritorneremo in Terra Santa, anche per aiutare i nostri amici che stanno vivendo come noi un momento difficile. Ritorneremo a Pellegrini in Terra Santa, ovviamente con Diomira Travel. Se siete interessati a ricevere questo volantino o avete solo idee, avete voglia di dare anche voi suggerimenti ai nostri itinerari, possiamo studiarli insieme. Potete contattarmi telefonicamente oppure visitare il nostro sito www.diomiratravel.com. Vi invito anche a visitare le nostre pagine social Facebook e Instagram. E soprattutto, una cosa importantissima, mi raccomando, portate sempre la mascherina. Quest'oggi io sono da sola in ufficio, quindi non l'ho messa, ma fatelo per voi e soprattutto per gli altri. Grazie, mettete un like se vi è piaciuto il video e vi aspetto al prossimo viaggio con Diomira Travel. Ciao! 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 Ciao!